Anticipazioni Beautiful, Hope scopre il terrificante segreto di Thomas e... Benvenuti nel nostro canale. In questo video di anticipazioni delle puntate di Beautiful abbiamo un riassunto molto importante che vi svelerà cosa accadrà nelle puntate future della nostra soap preferita. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. Nelle emozionanti puntate future di Beautiful accadranno rivelazioni scioccanti riguardo il rapporto tra Hope e Thomas. Hope scopre una verità orribile su Thomas che scuoterà le fondamenta della sua esistenza. Hope sapeva bene che il rapporto tra Thomas e Brooke non era buono. Questi due avevano appena litigato pesantemente e Thomas aveva addirittura minacciato Brooke con un coltello. Il Dipartimento di Servizi Sociali quindi è intervenuto subito interrogando Thomas e lui ha accusato Brooke di aver chiamato i servizi sociali per fargli perdere la custodia di Douglas. Tuttavia, Hope fa una scoperta sconvolgente sul telefono di Thomas, è stato in realtà proprio lui stesso a chiamare i servizi sociali, non Brooke. Thomas, come sappiamo bene, nasconde un passato turbolento e, nonostante abbia cercato di cambiare, continua a ricorrere a trucchi sporchi. Mette in scena una messa in scena per diffamare Brooke e riconquistare l'affetto di Taylor e Ridge. Hope decide per il momento di concedere a Thomas un ruolo nella vita di Douglas, ma ormai non ha più fiducia in lui. La donna, però, ha intenzione di rivelare l'inganno di Thomas in tribunale per ottenere la custodia di Douglas. Entrambi si prendono cura di Douglas, ma Hope è convinta che Thomas non possa offrirgli un ambiente sano e sicuro. La lotta legale che ne seguirà metterà dura prova il rapporto tra di loro, lasciando tutti con il fiato sospeso.